Un salto indietro nel tempo, a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, quando Francavilla al Mare era la perla dell'Adriatico ed ospitava i più grandi personaggi della cultura italiana del tempo, tra i quali ricordiamo Francesco Paolo Michetti, Gabriele D'Annunzio, Francesco Paolo Tosti e gli altri componenti del Cenacolo. Gli organizzatori dell'evento al Cenacolo dei Sapori hanno proprio questo intento, far rivivere dal 23 al 25 agosto prossimi il sogno della Belle Epoque e per le vie di Francavilla stand gastronomici, concerti, recita di poesie, visite guidate, spettacoli faranno fare un tuffo nel passato ai visitatori che vorranno partecipare ed immergersi nel clima di festa e di convidalità, che vedranno la presenza di artisti ed aziende di qualità, come ha annunciato alla stampa il sindaco Antonio Luciani. 23, 24 e 25, venerdì, sabato e domenica, Francavilla torna ai tempi del Cenacolo, appunto con la settima edizione del Cenacolo dei Sapori. Quest'anno avremo ospiti illustri da Federico Perrotta, Violante Placido, Riccardo Scamarcio, ma ci saranno come al solito auto d'epoca, figuranti, animatori, quindi una Francavilla veramente che ritorna ai tempi del Cenacolo, un'atmosfera molto bella, si assaggerà buon cibo e quindi invitiamo tutti a partecipare perché saranno degli stand gastronomici con cibi dell'epoca e non, ma comunque con pietanze molto molto gustose e ci aspettiamo le migliaia di visitatori che ci sono state nelle altre sei edizioni. Una manifestazione che riempie il cuore, io l'ho sempre definita la più bella di Francavilla al mare, un sogno, quest'anno accompagnata anche dal bel tempo e quindi vi aspettiamo. In occasione delle tre serate del Cenacolo dei Sapori ci saranno anche visite guidate, si potrà osservare, si potrà ammirare il premio Michetti all'interno del museo, le due tele appunto di Francesco Paolo Michetti che sono custodite all'interno dello stesso museo, quindi i visitatori potranno tornare a quell'epoca anche guardando le opere di questo enorme artista che fu Francesco Paolo Michetti.